Però volevo andare da Licia Ronzulli, perché Antonio Polisa ha una domanda. No, volevo solo chiedere una cosa, siccome ieri ho sentito poi centinaio mi pare che ha precisato che ai gazebo nel fine settimana loro invitano anche gli elettori di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, perché siccome sono esponenti, diciamo sono lì a rappresentare tutta la coalizione invitano anche loro. Ecco, i militanti di Forza Italia, gli elettori di Forza Italia dovrebbero, secondo voi, secondo lei, andare a gazebo e votare su questo contratto con i Cinque Stelle? Nel caso che voto dovrebbero esprimere? Ma, come dicevo prima, innanzitutto noi con questo contratto non l'abbiamo visto, quindi forse verrebbe la pena prima analizzarlo e capire se... Poi, ripeto, mi spiace appunto ripetere la cosa che ho detto in apertura, questa non è una cosa che aspetta Forza Italia, Forza Italia sta alla finestra, noi ovviamente abbiamo già preso un impegno con gli italiani, un contratto esiste già di fatto ed è il contratto sottoscritto con gli elettori il 4 di marzo, cioè noi ci siamo presentati per 30 giorni, abbiamo raccontato che cosa volevamo fare per il Paese, abbiamo sottoscritto un programma, il contratto è già con loro, se all'interno dell'alleanza col Movimento Cinque Stelle Matteo Salvini riesce a portare su quel tavolo lì appunto istanze che chiedono gli elettori del centro-destra e Forza Italia ci sarà, non so, non credo che Forza Italia in quanto movimento politico parteciperà alle gazebarie, però insomma ai gazebi ci può andare chiunque, quindi magari un elettore di Forza Italia che passa per la piazza e trova un gazebo e vuole esprimere la sua opinione lo può fare senza problemi, ci mancherebbe altro, però per commentare Di Maio obiettivamente mi sembra che abbiano visto due film diversi, a me ha stupito molto questa netta differenza della comunicazione post-consultazioni, non sono sicuramente figlia della Prima Repubblica che Di Maio ogni due per tre cerca di abbattere a volte anche con termini molto forti, però vorrei dire che probabilmente ai tempi della Prima Repubblica uno stallo del genere avrebbero già risolto in dieci giorni, è un sistema proporzionale, quindi bisogna fare degli accordi e se qualcuno non è in grado di fare degli accordi forse si deve fare da parte.